comune di cinaglio e galmonferrato astigiano presentano la settima tappa del circuito ritorno alla fiera 13 fiere storiche simbolo del territorio monferrino a cinaglio da martedì 26 agosto a lunedì primo settembre con dolci e colline la rassegna del canestrello e delle dolci tipicità della val rilate da venerdì 29 agosto tutte le sere dalle ore 20 apertura degli stand gastronomici e serate danzanti gratuite con venerdì tributo a vasco rossi sabato concerto live degli sturi a lavandini rinomato gruppo astigiano la giornata di domenica 31 agosto sarà dedicata alla grande fiera del canestrello a partire dalle ore 10 in serata musica anni 80 e 90 con i rock it lunedì serata danzante con alex cabrio a cinaglio in provincia di asti dal 26 agosto al primo settembre non mancate